Un derby che sa tanto di ultimo treno sia per il Fasano che per il Casarano. La 27esima giornata di Serie D verrà contraddistinta da una sfida a dir poco cruciale per i primi posti della classifica. Dopo lo stop di Barletta, il Casarano dovrà ritrovare i tre punti in casa se vorrà restare sulla scia della capolista, che se dovesse invece andar via a più 10 diventerebbe praticamente impossibile da raggiungere. Un passo falso della Cavese a Bitonto ed un risultato positivo al Capozza potrebbero significare tanto per i rossazzurri, che avrebbero a quel punto la possibilità di accorciare a meno 4, così da continuare a sognare una promozione diretta in cui i Salentini non hanno davvero mai smesso realmente di credere. Discorso particolarmente simile a quello del Fasano, che dopo una prima metà stagionale stellare ha subito un brusco ridimensionamento. La zona playoff nelle ultime settimane si è allontanata sempre più ed il quinto posto adesso sembra un miraggio. Quello contro il Casarano potrebbe tramutarsi in un vero e proprio scontro diretto, con la speranza che la team Altamura scivoli a Venosa contro il Lavello. Una gara nel segno del 7, come i punti che separano il Casarano dal primo posto ed il Fasano dalla zona playoff, 7 come i pareggi che i rossazzurri hanno raccolto in casa e 7 come le sconfitte rimediate in campionato dai biancazzurri, che in trasferta non vincono da due mesi, 7 come le vittorie messe a segno nella città della selva dalla formazione di Vantisci. Fra queste spicca il 2-0 del 6 novembre scorso, proprio ai danni dei salentini che spezzarono la propria striscia di imbattibilità al curlo sotto i colpi di Corvino e Battista. La gara di ritorno, come sempre, sarà ben più importante del precedente d'andata. I tre punti questa volta peseranno come un macigno, anzi forse più come un ultimo treno che una delle due formazioni perderà inevitabilmente.